Anche l'ottava edizione del Paratorneo dei Rioni è stata consegnata agli archivi, l'evento di carattere sportivo-culturale che combina insieme storia, sport e disabilità è ormai divenuto un punto fermo dell'estate oritana e la risposta della cittadinanza non è certamente mancata. Un appuntamento tenutosi come di consueto in costume d'epoca, che ha visto protagonisti 14 atleti, 4 rioni e 7 gare di ispirazione medievale. A sollevare l'ambito palio è stato il Rione San Basilio, ma a vincere sono stati i valori puri che questi ragazzi hanno trasmesso, semplicemente divertendosi, amicizia, solidarietà e sportività. Vincere o perdere una gara per loro aveva ben poca importanza, ben più gratificante era esultare all'impazzata a prescindere dall'esito con sostenitori, compagni e avversari, se così li si può definire. Anche quest'anno l'associazione Exequo è riuscita, nella non facile missione, di rendere questi ragazzi protagonisti di una serata che attendono per tutto l'anno ragazzi, anzi atleti, da cui forse abbiamo tanto da imparare. Credo che sia andata benissimo, i ragazzi sono divertiti, noi ci siamo divertiti insieme a loro, il pubblico ha partecipato tantissimo, c'era un tifo incredibile, i ragazzi erano contentissimi. Noi quando inizialmente abbiamo scritto il progetto ci speravamo e poi la cosa è diventata sempre più grande, è diventato non un obbligo, è sempre un piacere, però vogliamo continuare a riproporlo sempre. Perché anche se i ragazzi c'erano quelli che magari in una gara non andavano bene, si complimentavano con gli altri che erano andati bene, quindi c'era proprio la sportività.